Non è stata proprio una passeggiata per lo skipper fanese Alberto Moricoli la disavventura che gli è capitata a 60 miglia marine da Fano in mezzo all'Adriatico poco dopo le 10 di ieri sera quando era a largo di Ravenna diretto a Trieste a bordo della cuna matata un 12 metri a vela battente bandiera belga con posto barca alla marina dei Cesari. Alberto per cause ancora tutte da capire è rimasto improvvisamente senza timone proprio quando la traversata si stava svolgendo regolarmente cose che capitano a chi va per mare ma a peggiorare la situazione anche la radio principale è andata in avaria ma l'esperto skipper non si è scoraggiato e ha iniziato a governare lo scafo con mezzi di fortuna ma per comunicare ad Alberto non è rimasta che la segnalazione visiva con una luce d'emergenza a dargli supporto e a cavarlo d'impaccio proprio grazie alla sua segnalazione la presenza nella zona di un peschereggio fanese che era lì in piena azione di pesca il gioachì che accortosi delle condizioni critiche della vela alla deriva l'ha agganciata e rimorchiata fino nel porto di Fano. 14 ore di navigazione dalle 24 di ieri peschereccio e vela al traino sono entrati in porto oggi pomeriggio alle 14 e 30. No è andata bene una nottata un po' di tensione però alla fine il Padre Eterno ci ha aiutato è andato tutto liscio non si è fatto male a nessuno e quello è l'importante insomma. Li avete visti che erano in difficoltà? Sì ci ha segnalato lui con una pila dopo l'ho chiamato sul canale 16 dell'UHF era rimasto con un VHF portatile mi ha detto che era in difficoltà con il timone in avaria e niente abbiamo smesso l'attività di pesca e lo siamo andati a prendere. La bravura unita alla tecnica e dalla profonda conoscenza del mare e della vela oltre a tanta esperienza madurata navigando avrebbero consentito certamente ad Alberto di riportare in banchina il 12 metri ma forse non proprio così aggivolmente e non in 14 ore. La legge del mare è questa ed i marinai sono una famiglia non c'è azione di pesca che tenga non c'è rimessa economica che conti il peschereccio va detto per questo recupero ha comunque rinunciato al suo introito economico ma tutto passa in secondo piano tutti per uno e uno per tutti e per chi ha nelle vene anche dell'acqua salata la giornata di oggi è ordinaria amministrazione.